Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Cooper Pedy, nell'outback australiano, in un hotel sotterraneo chiamato Underground Hotel. È stato il primo hotel sotterraneo realizzato qui in Cooper Pedy, si trova a 10 minuti del centro, le camere all'interno sono molto carine, molto pulite, c'è l'aria condizionata, all'esterno potrete trovare un'aria per i bambini, un'aria barbecue, free wifi, qui vicino c'è anche una miniera di opale, per cui è possibile richiedere delle luci notturne per andare a ricercare questa piccola pietra preziosa. Quindi è una vista molto carina anche dal punto di vista del tramonto, potrete osservare un bel tramonto e vi succede di fare un salto.